lasciatemi dire con il mio approssimativo inglese io ho appena letto paperless education is the future pensate l'ho letto su di un giornale naturalmente anglosassone ebbene secondo questo giornale l'educazione senza carta il futuro che cosa intende dire intende dire semplicemente che i libri di testo nella scuola non hanno più ragione di esistere nel momento stesso in cui è avvenuta la rivoluzione tecnologica nel momento stesso in cui abbiamo dei supporti tecnologici che ci consentono di fare molte cose dallo smartphone al tablet eccetera eccetera ed allora la paperless education è il futuro l'educazione senza carta ovvero tutti i libri di testo devono essere in formato digitale in formato ebook ma non nell'ebook semplice così l'ebook multimediale dove c'è la possibilità che lo scritto possa convivere con il video poi ci sono naturalmente molte fotografie poi quando occorre sentire delle voci o avere una conversazione ecco che c'è l'audio in ogni modo un'esperienza multimediale anche per i libri di testo beh ci sono in italia alcune realtà le quali cercano faticosamente da anni di presentare dei libri di testo in formato digitale ma ancora l'editoria dedicata ai libri di testo ancora non ha ancora capito oppure non ha ancora voluto capire quella che è l'importanza di questa rivoluzione e l'ineluttabilità di questa rivoluzione si sono limitati ad aggiungere edizioni fotocopia del libro stampato in formato pdf che però per guardarle in un in un computer fisso portatile bisogna talvolta usare lo zoom per ingrandire i testi eccetera eccetera insomma la rivoluzione digitale nella edizione dei libri è assolutamente ineluttabile